musica 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 bt game ancora non vedo il canale il canale disconosce il like e mi sascrivete ragazzi ho un'indarra su zari e guardi gli acili nei schifo i es il i Per questo non ho visto un vlog che si tratta di oggi E' un vlog per me Ciao Come se ti amico? Come? Mi ha chiesto? Non ho visto che ho visto E' un po' che ho visto Mi ha visto che ci sono Non c'è un po' che ho visto Per la ricerca io? Poi Per la ricerca io E' un po' di più E' un po' di più Sono un'espero, sono un'espero Ah, non basta, non hai appro di tutto Ci è tutto Ah, non sei Non ci sono il secondo Non ci sono Un secondo Non ci sono Che è un'amica Che, che c'è? Si ho i butti Non ci sono un' camera Non ci sono Oh my god Iniziamo Ma questo dias Si è andata Non ci sono Non ci sono Noi C'èati non è così come ti senti? come ti senti? è così è così è così è così è così grazie come ti senti? ciao Ciao Sono No Di unTerипso No, non ho. No, non lo so. Mi conto è no dalle. Non, non lo so. No, non lo so. Mi conto è no dalle. Non lo so. No, mi volvi. Si, non lo so. Mi accetto con il giro. Non lo so. E poi non lo so. Mi conto è no dalle. Mi conto è no dalle. Questa è il nostro canale! Inaz! Non ci si vedi la mia volta Si, oggi ci siamo! Se, non ci sono di più No, ci sono anche i ricordi Non ci sono i ricordi E questo mi sono accettato Ma inizia su casa E adesso, ci sono le prestazioni Quindi, ci sono il nostro canale Si è il nostro canale Ci sono 10 mili E ci sono i ricordi sono stati nonチャンネル il nostro corso la maniera ioi sono stati in Cina non è non è orata ha orata Aspetta, esmercia. Come a get up. A get gonna get up. A get up. Oh yes, ok. Carro il gomma. Carro il gomma. Lawtmi mangiare a legazione. Adesso? Do, mi fanno. Ah, ci chiamo. Si, si, ci chiamo. No, no. Si, si. No, no, non, non. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. ... Ci sono tutti i giorni Siamo a fare il giorno No Happy BerrisDay Ora ci sono le persone Happy BerrisDay Non c'è l'ultima? Non c'è l'ultima? Non c'è l'ultima Non c'è l'ultima Ora Ora ci sono le cose No, come. Velezza, come vieni meglio. Che vieni tutti! Non ci sono mai... Ti avevo fino a qui che ci sono. E se... Deti qua? Tutto bene? Proviamo un po' Chi si? Vi non puoi dire la domani. A presto! Allora! Volevo dire! Oh! Wow! Ciao! 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 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 16 14 15 15 16 17 18 20 No si dimenticare, non mi mora. Ma non ti senti presto Non sono ma che cattere, non è il video? Non è così facile. Ma quando ti senti un video? Tu sei così? Noi Ce che ti senti? Cosa cosa? Cosa? Cosa cosa? Cosa? Aspettate su casa, ha detto con i buoni. from casa, ritorno? alle persone qui li buoni? indios, ma la cibo? alla cibo ok il cuore con le cibo? si ho il cuore con il cuore. yes quindi il questo caso di così ah il questo caso voglia di fare ahi cosa vuoi vieni? o ah c'è là c'è cosa vuoi vieni? poteva vieni poteva vieni perché facevammo è come il mio ha in quanto stesso non sei ok c'è un po' che c'è un po' no Sei da qua, non ti sei che? Non ti sei che? Questo ècco, come per il Giorgio. no, non ti sei che, no, non ti sei. Ok, non sta bene, ho cercato il fatto di aver guardato il vlog. emozione per fare la scelta, abbono la mia ricerca di chi ti dice che adesso la mia scelta, mi piace, Quindi, in un modo si può vivere il conto In un modo il conto Un modo il conto Non perchè perchè a dire che si è finita L'induccio è quello che ha fatto Quindi, essendo un cammin di lui Fanno, se non hanno fatto Ma,енноządmente non si era Non avevo il conto Quindi, la nostra stagione con i tempi Sono tante la nostra stagione Perciò che ci sono accerti Perché del confezione Ciao, ciao, ciao.